Ciao ragazzi, sono Alberto di Viva l'Albe ed oggi assaggeremo insieme un tipo di biscottino nuovo, bene. Chi ha suggerito questo biscottolo? Il buon guido di Animation Studio. Se non lo conoscete vi lascio un link in descrizione o qualcosa ovunque, ecco. E mi ha scritto su Instagram, hai mai provato questi? Fortunatamente no. Quindi diamo il benvenuto ai crock'n nuts di Carrefour Sensation, è tipo una specie di Platinum, tipo The Best Of. La cosa che ci ha colpito è l'apporto energetico di D, del Nutriscore, quindi questo cosa vuol dire? Che hanno bisogno di essere alimentati con una presa di questo tipo. Beh, è avuto perché l'ho fatto. Quindi sono un po' cicciosini, ma apriamo e sentiamo se subito la sensation si fa croccante. Wow, il taglio più incredibilmente pulito della vita. Beh, il profumo è sempre di nocciola e cioccolata. Si presentano ammucchiati. Bene. Oh ma guardate che carini, come sono curati. Ma assaggiamolo così, a stecca. Non sono male. Ricordano molto i baiocchi. Buoni. E adesso la prova del latte. Ce ne plufferò uno dentro, così, lanciato di cattiveria. È abbastanza affogato. E questo lo mangerò in un solo beccone. Non so quanti secondi sono passati. Se dalla regia... Ottimo. Beh, eccolo qui. Aiuto. tre, due, uno. Beh dai, non era male. Insuppato nel latte prende un po' più un'aria diversa. Però non è male. Quindi consiglio questi... Consiglio questi croc'n'nuts della Sensation Carrefour. Eh, sì. Sono simpatici? Sì. Sono croccanti? Sì. Ricordano un po' i baiocchi? Sì. Fanno ingrassare come la me***a e ne mangiate tre confezioni di fira? Beh, quello penso un po' tutti i biscotti di questo tipo. Quindi non aggiungo altro, se non un grazie Guido per aver suggerito questa tipologia di biscotto. Anche la confezione è molto colorata, molto bella, molto profumata. Ah, sa di... sa di nulla. Buoni ve li consiglio. Ciao! Ciao!